quando si crea la muffa nel muro entra subito un po di ansia nel senso che la vogliamo levare perché è brutta da cattivi odori e ovviamente non deve stare lì i prodotti da utilizzare in commercio sono tantissimi però trovare il prodotto giusto che funziona a volte è veramente un lavoro io ho voluto provare questo prodotto Saratoga del quale vi lascio anche il link in descrizione se qualcuno volesse dargli un'occhiata su Amazon con spedizione gratuita se siete abbonati a Prime che praticamente basta spruzzarlo nel muro ovviamente da seguire tutte le istruzioni per poter appunto lavorare in totale sicurezza e una volta spruzzato nel muro locale ovviamente ben areggiato magari dopo l'utilizzo anche di un ventilatore potrebbe essere utile per farlo asciugare basterà attendere alcune ore e dopo alcune ore lui mangia letteralmente la polvere non vi preoccupate se vedete queste sgorature cercate magari di spruzzarne la quantità giusta di non esagerare e di non allagare diciamo il muro proteggere oltre voi stessi insomma proteggere anche tutto quello che circonda il muro quindi le finestre le porte con un cartone con dello scotch il pavimento con delle coperte e spruzzare appunto il prodotto se necessario rispruzzarlo una seconda volta dopo alcune ore 3-4 ore e il risultato finale è veramente incredibile perché il muro sembra praticamente quasi come se fosse stato ridipinto vedete voi qui nel video in angolino a destra in basso vedete com'era prima guardate che macchie nell'angolo gigantesche e praticamente non è rimasto quasi nulla se poi ci andiamo a ripassare beh guardate voi il risultato è a dir poco eccezionale vi lascio il link del prodotto dell'acquisto su amazon iscriviti e come sempre ciao al prossimo video